Bentornati a tutti ad un nuovo unboxing Oggi andiamo a scoprire una scarpa molto particolare, molto interessante Andiamo a vedere di cosa si tratta Ecco a voi la Zone Meat Sensory Champion è un marco che si è fatto conoscere nel passato Soprattutto per il suo storico e importante legame con l'NBA E infatti Champion è stato per molti anni lo sponsor tecnico della Liga E quindi anche della Nazionale Americana E ha sponsorizzato anche il famoso Dream Team Questa scarpa vuole rendere omaggio ad una delle scarpe più iconiche di Champion Che è la Zone High Una scarpa da basket che ha visto ottenere un grande successo nel passato La scarpa a differenza della versione originale la troviamo a mezzo collo Quindi è una mid, non è una high Non è a collo alto È un mezzo collo Con un taglio sulla caviglia E i materiali utilizzati sono due Abbiamo una pelle scamosciata sulla parte posteriore Che è anche traforata E una pelle premium sul resto della scarpa Per quanto riguarda l'ammortizzazione Non c'è nessuna specifica particolare Ed è molto interessante per i dettagli Sulla sola troviamo la scritta iconica di Champion Troviamo lo stesso taglio anche sulla linguetta E questa è un'edizione particolare È un'edizione Century Il Century in inglese vuol dire centenario Quindi questa scarpa va ad omaggiare quelli che sono i cento anni di Champion Pelle scamosciata sulla parte posteriore Scritta Champion a livello del supporto per il tallone Che è bello rigido Utilizzo dei tre colori iconici di Champion Il bianco, il rosso e il blu Che si va a mischiare con il grigio della pelle scamosciata Dove possiamo vedere all'interno Non so se si riesce a vedere bene Ma c'è il rosso L'iconica C-Champion è realizzata con il rosso e spicchiato Andiamo a vedere l'onfit della zone 1 Ciao ragazzi sono sempre io Se vi è piaciuto questo video lasciateci un like Lasciateci un commento E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Grazie a tutti Grazie a tutti